Sono una docente del Sapienza Università di Roma, del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma e sono uno dei soci cofondatori dell'azienda Nazca che organizza questo corso sul monitoraggio geotecnico e strutturale che alla Casa dell'Aviatore da oggi si svolge. Si svolge in una sede oltretutto molto vicina all'Università, la Sapienza, a rappresentare la collaborazione che tra l'azienda Nazca e l'Università esiste su questi argomenti. Collaborazione che si formalizza in questo corso attraverso anche la copartecipazione di uno dei centri di ricerca interdipartimentali della Sapienza, il Centro di Ricerca Ceri sulla previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici, centro di ricerca che contribuisce all'organizzazione di questo corso e che dà un supporto su queste tematiche. In particolare questa azienda che si occupa del corso, l'azienda Nazca, è nata appunto da questo centro di ricerca, ormai è nata 13 anni fa, è nata nel 2009, ed è rappresentato una innovazione tecnologica nel campo dello studio, dell'analisi, dei processi di dissesto che possono coinvolgere il territorio, le strutture e le infrastrutture. È nata proprio con lo scopo di fornire strumenti di monitoraggio all'avanguardia per tenere sotto controllo questi processi. È nata ormai appunto 13 anni fa e da allora si è sviluppata in autonomia e comunque in collaborazione sulle tematiche con l'università. Da questo punto di vista rappresenta un ottimo esempio di quella che all'interno dell'università è chiamata per l'appunto terza missione. Con questo termine stiamo a rappresentare l'università che si apre verso l'esterno e che grazie alle proprie ricerche dà un contributo per la società, anche attraverso aziende. Aziende all'interno delle quali operano anche laureati e persone che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'interno della Sapienza come in altre università e con altre discipline.